Grazie a tutti Ricordati che è in offerta La manco Salve 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 Sì Allora no Questa Ci abbiamo messo un po' Posso? Questa perché viene dalla ramaico È una canzone che viene dalla ramaico che il maestro ha musicato è una canzone che viene dalla ramaico e non ve lo dico di che parla però è stata ritrovata in un'otre di olio a cui mancavano due cose e dietro c'era anche un'altra non è così Ma Comunque non è una canzone non è una canzone Ma non è una canzone Ma finiamo Ci prendiamo Dalla la mano Dalla la mano Dalla la mano C'è E E E E Answer Abbiamo terminato questa bella serata e ci sono le vada canzoni e canzoni. E lui è il breve scorso, sì, il vostro amico, ecco l'ottamento mio! E se qualcuno non gli è canta, non se vedremo la pagina complicata. Ma si recupera, in modo giurico, da una mancata io d'amorio il rito. Vorrei precisare di questo stornello, da un po' senza ritornarlo. Anzi, si fanno così, ma è sciato stai, per essere un rito potete andare a tutti a te! Ricordi che ci sono così! Grazie!